Ad inizio 2023 dovrebbero partire finalmente i lavori alla Cattedrale di San Massimo, il Duomo, per terminare nel 2028. Dopo ben 13 anni si sblocca uno dei cantieri più attesi. Lo scorso mercoledì è stata pubblicata la graduatoria delle ditte che hanno partecipato alla gara, la Cobar di Altamura e la giudicataria in via provvisoria. La procedura prevedeva un importo complessivo a base d'asta di oltre 25 milioni. Avevano partecipato 14 ditte. Lavori che dovrebbero durare 5 anni e che saranno divisi in due stralci funzionali. Per quel che riguarda le risorse, oltre 18 milioni arrivano dal Cipe. Altri 18 e mezzo sono previsti con l'inserimento dell'intervento nel piano sviluppo e coesione del Ministero della Cultura. Entro la fine dell'anno dunque ci sarà la stipula del contratto e nei primi mesi del nuovo anno la consegna dei lavori con l'apertura del cantiere. Federica Zalabra, segretario generale, si è detta molto soddisfatta del risultato. A guidare i lavori saranno l'architetto Valerio Tesi, soprintendente per le province di Pese e Livorno, che sarà il RUP, e l'architetto Augusto Cicciotti, a cui l'hanno responsabile del segretariato e direttore dei lavori. Sarà realizzata innanzitutto una copertura per la cattedrale, le cui condizioni sono addirittura peggiorate a causa delle intemperie. Per il Duomo c'è già un progetto esecutivo, approvato dalla soprintendenza a giugno scorso. La storia del Duomo è stata controversa e fatta di lungaggini burocratiche. La cattedrale, peraltro, è stato oggetto della visita di Papa Francesco lo scorso 28 agosto. Dal punto di vista dei lavori, quelli del primo stralcio riguarderanno la zona presbiteriale interessata dal crollo della copertura. Il secondo interesserà la restante aula del Duomo. La storia della mancata ricostruzione del Duomo è stata caratterizzata anche da qualche polemica negli anni. Le condizioni di ciò che rimane della struttura, infatti, sono peggiorate a causa delle condizioni climatiche avverse, essendo praticamente una parte senza copertura. All'interno erano cresciute pure delle piante. Tra le cause del ritardo e il fatto che il Duomo era stato inserito nel lotto dell'intero complesso, compreso l'arcive Scovado, che invece è stato ristrutturato, assegnato con le regole della ricostruzione privata, cioè in deroga all'appalto privato, poi stracciato per essere ricompreso tra gli appalti pubblici.